Un uomo di 65 anni è stato arrestato con la pesante accusa di molestie sessuali su minori. L'episodio denunciato sarebbe avvenuto su un bus di linea. Improvviso cedimento strutturale di un fabbricato di proprietà della comune di Taranto, sede operativa di Chimambiente, cantiere zonale di Paolo VI. Messa di ringraziamento a Taranto in cattedrale per i 50 anni di sacerdozio di Monsignor Filippo Santoro, il vicevescovo di Taranto, la presenza di altri 5 vescovi pugliesi. Benvenuti a questa edizione del telegiornale di Antenna Sud, dedicato a Taranto e provincia. La cronaca in apertura, c'è stato un arresto per molestie sessuali. Si tratta di un uomo di 65 anni, nato residente a Grottaglia, già noto alle forze dell'ordine. Tutto nasce da una segnalazione al 112 con cui alcune studentesse che viaggiavano a bordo di un autobus del Consorzio Trasporti Pubblici di ritorno da Taranto e diretto a San Giorgio Ionico hanno segnalato la presenza di un uomo che stava molestando sessualmente la loro coetanea 14enne seduta accanto a lui. I carabinieri hanno quindi individuato il bus, velocemente lo hanno bloccato lungo la tratta. Saliti a bordo, i militari hanno raggiunto la vittima sottraendola ai palpeggiamenti dell'uomo che è stato arrestato in flagranza. Il 65enne, fatta salvo alla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari. E adesso un'inchiesta del telegiornale di Antenna Sud, abbiamo raccolto la segnalazione di uno dei tanti telespettatori e perché diamo sempre voce ai cittadini siamo andati sul posto a San Vito chiusa per un provvedimento giudiziario e la sorte della spiaggia della zona di Mare Chiaro San Vito, da tempo interdetta ai bagnanti. Abbiamo cercato di capire perché il servizio è di Leo Spalluto. Sentite. Chiusa ma non per ferie, bensì per un sequestro giudiziario. Quest'anno i tarantini dovranno rinunciare ai tradizionali bagni nella zona costiera Mare Chiaro San Vito, spiaggia libera molto amata per l'estrema vicinanza alla città e l'ampiezza del Lido. Dopo la scorsa estate la zona è stata completamente transennata per impedire l'accesso alla spiaggia dalla confine del vecchio stabilimento Mare Chiaro fino all'ingresso della borgata di San Vito. Alcuni telespettatori hanno contattato la redazione di Antenna Sud chiedendo chiarimenti sulla situazione, avendo notato la chiusura dell'area senza l'effettuazione di lavori. La spiaggia, sottoposta a tutela paesaggistica per un totale di 70.000 metri quadri, è da tempo interessata da un sequestro giudiziario deciso dalla Procura della Repubblica di Taranto per i reati supposti di inquinamento e disastro ambientale a carico di gnoti, verificata nel terreno la presenza stratificata di rifiuti di ogni genere, laterizi, materiali ferrosi, persino Eternit. Negli ultimi mesi il provvedimento ha trovato piena esecutività, confermata dai cartelli che segnalano il divieto d'accesso per sequestro giudiziario. In attesa della risoluzione della vicenda e delle procedure di bonifica che dovranno interessare l'area, resta un unico varco alla fine di Viale Ionio, una galetta bella naturalisticamente ma poco adeguata per la balneazione, trascogli, materiale di risulta e alghe. La cronaca adesso, torniamo alla cronaca con il crollo di un solaio di una struttura comunale al quartiere Paolo VI, vedete com'è andata. Improvviso cedimento del solaio di uno dei due fabbricati di proprietà del Comune di Taranto in uso a Chima Ambiente per la sede operativa a cantiere zonale Paolo VI in Aviale Cannata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Taranto. non ci sono stati feriti soltanto danni alla struttura. L'area in questione fa sapere Chima Ambiente Amio era già stata da diverse settimane interdetta ai dipendenti perché la direzione aziendale, appurata la necessità di una manutenzione straordinaria, aveva vietato l'accesso alla zona. Da qui la segnalazione alla direzione competente del Comune in qualità di titolare della struttura e quindi unico competente per questo tipo di intervento. I tecnici comunali avevano anche effettuato un sopralluogo e avviato un'istruttoria per i lavori di ripristino. La direzione aziendale Chima Ambiente si è recata sul posto nella serata di ieri per un primo sopralluogo, proseguito poi nella mattinata odierna con i tecnici del Comune per la risoluzione del problema. E adesso un argomento che ha monopolizzato l'attenzione di tantissimi tarantini. La messa di ringraziamento in concattedrale per i 50 anni di sacerdozio di Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, la presenza di altri 5 vescovi pugliesi. Una grande festa ha vissuto assieme ai parenti e ai nipoti, a 5 amici vescovi e alla comunità ecclesiale dell'intera Taranto. La concattedrale ha ospitato la Santa Messa di ringraziamento per il 50esimo anniversario di sacerdozio di Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Monsignor Santoro fu ordinato sacerdote a Bari il 20 maggio 1972. Poi le esperienze vissute come vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, vescovo di Petropolis, entrambe in Brasile, e dal 21 novembre 2011 come arcivescovo metropolita di Tanato, nominato da Papa Benedetto XVI. Hanno partecipato alla cerimonia Monsignor Giuseppe Satriano della diocesi di Bari-Bitonto, Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, Monsignor Salvatore Ligorio, vescovo di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone San Severina, e Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca. Presenti anche all'arcivescovo emerito di Taranto, Monsignor Benigno Papa, e i rappresentanti delle autorità civili e militari. La mia ordinazione sacerdotale di 50 anni fa è proprio il cuore pieno di gratitudine, gratitudine per le esperienze che ho fatto prima in Italia, poi andando in Brasile per 27 anni, poi tornando qui in Italia e essendo abbracciato in una splendida accoglienza qui a Taranto. Quindi un ministero dedicato al Signore, dedicato alla Chiesa, per cui sono molto grato per tutto questo e ho condiviso le sofferenze, le ferite della nostra città, ma anche le speranze, le gioie, il cammino servendo la Chiesa, servendo anche la nostra cittadinanza. Voltiamo pagina, pensate, 2.000 multe elevate ai danni di cittadini incivili e si parla di conferimento di rifiuti. Chimambiente AMIU ha intensificato la presenza di videotrappole sul territorio. Vedete. Prosegue la battaglia contro gli incivili e l'abbandono selvaggio dei rifiuti. A Taranto sono oltre 2.000 le nuove multe grazie alle videotrappole. È stato infatti potenziato il controllo del territorio. Recentemente sono stati installati circa 25 nuovi dispositivi disseminati nelle zone centrali ma anche nelle periferie. Quattro nuove videotrappole al quartiere Paolo VI, tre al rione Tamburi, altre tre al rione Salinella, passando anche per l'area di Taranto II, Città Vecchia e altre tre, lungo alcune traverse di Viale Magna Grecia e altri rioni cittadini. Un servizio di monitoraggio a tutto spiano che viene effettuato dalla centrale di controllo di Chimambiente AMIU. Considerando la vastità del territorio comunale Tarantino, che si estende su quasi 250 km quadrati, viene richiesto tempo e un adeguato impiego di mezzi e risorse per completare tutta l'opera. I nuovi dispositivi hanno portato nella sola metà di maggio a 2.000 multe. I filmati hanno incastrato i trasgressori che ora si trovano a dover pagare sanzioni salate. La montare totale dei verbali supera i 200.000 euro. Le violazioni inoltre riguardano anche il conferimento di rifiuti fuori orario, specialmente nelle ore mattutine durante le quali non si può gettare nulla all'interno dei cassonetti e dei carrellati. Gli orari di conferimento sono solo quelli serali. La pagina politico-amministrativa, ovviamente anche quella elettorale, è gremita la sala del Salina Hotel per la presentazione dei 32 candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Taranto e la presenza del candidato sindaco Walter Musillo. L'affollato salone dell'hotel Salina di Taranto ha colto la presentazione dei 32 candidati della lista di Fratelli d'Italia per le elezioni comunali del capoluogo. All'incontro hanno partecipato i vertici locali del partito di Giorgia Meloni, annunciata a fine mese a Taranto, i coordinatori regionale, provinciale cittadino, Marcello Gemmato, Dario Iaie, Pietro Pastore e la vice coordinatore regionale e consigliere regionale Renato Perlini, assente dell'ultima ora l'eurodeputato Raffaele Fitto. Tutti hanno riaffermato la grande forza espansiva dei Fratelli d'Italia nel territorio ionico e il totale apprezzamento per la candidatura Musillo dopo le perplessità iniziali. Taranto non può essere più soccupato dei paresi perché in questi 15 anni Taranto è stata colonizzata dei paresi. Abbiamo avuto un vicissinico di Bari, abbiamo avuto Emiliano che ha fatto solo nomine sul territorio di dirigenti paresi. È arrivato il momento che i tarantini devono cominciare ad avere la loro importanza e dire cosa vogliono fare su Taranto. La personalità di Walter, il sapersi mettere in discussione, la condivisione rispetto ad alcuni temi delle centrodestra e della destra importanti di valore hanno fatto sì che il nostro elettorato cominciasse a riconoscersi in Walter e noi crediamo che nei prossimi giorni le cose andranno ancora meglio. È un momento molto emozionante per noi che ci ha visti impegnati negli ultimi settimane per cercare di reperire le migliori risorse umane che questo territorio possa offrire. Con Fratelli d'Italia abbiamo una grande intesa. Ti accorgi di avere a che fare con un partito, ti accorgi che c'è la base, ti accorgi che ci sono i dirigenti, ti accorgi che è un partito popolare che sta in mezzo alla gente, che ha le sedi aperte, le sezioni aperte. E invece sul fronte del centro-sinistra è prevista per oggi alle 18.30 una convention presso i giardini Virgilio a Taranto in Viale Magna Grecia delle liste a sostegno del candidato sindaco Rinaldo Melucci. Ci sarà la presentazione del programma elettorale delle 11 liste che sosterranno Rinaldo Melucci. L'evento vedrà la presenza anche del governatore di Puglia Michele Emiliano mentre il presentatore sarà Mauro Pulpito dunque appuntamento alle 18.30 di oggi presso i giardini Virgilio in Viale Magna Grecia per la presentazione delle 11 liste a sostegno di Rinaldo Melucci. Intanto le temperature come avrete notato si stanno alzando e quindi si sente sempre più vicina all'estate ma quello che stiamo per vivere sarà un weekend davvero estivo sentiamo perché nel servizio di Laura Milano. Sarà un weekend più tipico di luglio che di maggio a livello meteorologico per le anomale temperature causate dalla prima ondata di calore dell'anno che avrà il suo apice proprio nel fine settimana e durerà almeno fino a lunedì. Le previsioni infatti indicano che le temperature toccheranno i 35 gradi e che si potrebbero registrare diversi record per il mese di maggio. L'anticiclone di origine africana Hannibal è infatti in piena azione. Le temperature inoltre saranno accompagnate da un tasso di umidità alto ma il caldo anomalo provocato da Hannibal non riguarda solo l'Italia e le alte temperature sul Mediterraneo centro-occidentale dureranno almeno fino a lunedì. La nuova settimana sarà invece più instabile con l'arrivo di temporali da martedì 24 maggio. Per affrontare il caldo di questo weekend gli esperti suggeriscono di bere molta acqua e di evitare di uscire nelle ore più calde. Adesso vi raccontiamo un'iniziativa davvero singolare cioè quella dell'Istituto Comprensivo Moro Leonida di Taranto che ha celebrato il Senza Zaino Day l'innovativo modello didattico di cui la scuola è capofila nell'area Ionico. Salettina ce ne parla dettagliatamente. Leo Spalluto. Percorsi di laboratorio grafico pittorici linguistico-letterali, musicali e informatici per celebrare il Senza Zaino Day nei tre plessi dell'Istituto Comprensivo Moro Leonida è stato celebrato il primo ventennio di sperimentazione in Italia dell'innovativo modello scolastico l'Istituto Comprensivo presieduto dalla dirigente scolastica Loredana Bucci scuola Polo del modello Senza Zaino nell'area Ionico Salentina ha promosso attività differenziate nei vari plessi. Nella secondaria il tema scelto Non c'è vita e umanità, senza giustizia, pace e libertà si è sviluppato in sette percorsi di laboratorio che si sono svolti negli stand sistemati nel cortile del plesso della Leonida dove è stato inaugurato il primo dei sette laboratori tematici ideato dagli studenti e dai docenti di tecnologia Paola Carbonare e Marco Malagnino che si è concretizzato nella struttura di socializzazione realizzata dall'architetto Mitalo Russo che è servita nel corso dell'intero anno per svolgere attività didattiche a cielo aperto. L'importante intanto è l'evento storico che caratterizza ormai il nostro istituto conosciuto come giornata della responsabilità è un momento in cui noi andiamo a ripensare a condividere quelli che sono i valori fondanti dell'impianto, del modello di scuola quindi l'accoglienza, la comunità, l'ospitalità e soprattutto un evento in cui vengono rafforzati i capisaldi di questa impostazione. La socializzazione dei lavori vede tutti coinvolti in attività corali, in attività di gruppo che mirano soprattutto a ragionare quest'anno in particolare sul tema della giustizia sociale e della pace. Questo tema afferisce, diciamo, alla Carta della Terra e rappresenta uno dei pilastri. E questo era l'ultimo servizio del telegiornale dedicato a Taranto e provincia adesso il via alle news di Brindisi e Lecce. Tutto pronto per la 36esima regata internazionale Brindisi Corfu questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma tra il 12 e il 14 giugno prossimo. Giornata della legalità a Francavilla con gli studenti del primo comprensivo a confronto con Procura e Arma dei Carabinieri. Una villetta sulla Litoriana per San Cataldo è implosa, indagini in corso per determinare le cause del crollo. Ed eccoci alle news dal Salento. Apriamo con la Brindisi Corfu che torna dopo la pandemia. Senza restrizioni è stata presentata oggi a Brindisi la 36esima edizione. Per Antenna Sud c'era Cristina Cavallo. È quasi tutto pronto per la 36esima edizione della regata internazionale Brindisi Corfu la prima edizione vera post pandemia senza restrizioni presentata ufficialmente nella Salone dei Convenni dell'autore di Brindisina. Una regata che vive non solo della due giorni sportiva che collega come sempre le due sponde dell'Adriatico ma torna anche con tanti eventi collaterali che aprono di fatto l'estate Brindisina. Prima regata anche per il neopresidente del Circolo della Vela Gaetano Caso. Siamo felici che anche la stessa popolazione aderisce a questa cosa. Ci sono state tante proposte e ne abbiamo dovute scartare tante perché sono solo 5 giorni, 6 giorni di attività e non siamo riusciti a soddisfare tutti coloro che volevano partecipare attivamente agli eventi collaterali alla regata. La regata Brindisi Corfu è nata nel lontano 1986 solo per passione di alcuni soci, quattro amici del Circolo della Vela di Brindisi e mano a mano è andata crescendo anno dopo anno sino ad aggiungere l'edizione record del 2016 con 134 imbarcazioni iscritte. L'unica certezza che oggi si ha è che la Brindisi Corfu non è solo competizione sportiva ma un vero e proprio evento come sottolinea l'assessore allo sport del comune di Brindisi Oreste Pinto. Finalmente si torna alla vita si torna alla Brindisi Corfu si torna all'evento di punta della Brindisi Marinara ma non solo quindi dell'estate brindisina la Brindisi Corfu partiva come una scampagnata tra amici si è trasformata in un evento importantissimo di carattere internazionale. E allora la partenza della regata Brindisi Corfu è fissata per il 12 giugno alle 11 della diga di Punta Riso mentre gli eventi collaterali attendono turisti e brindisini sul lungomare Regina Margherita a partire dal 6 giugno. Restiamo in qualche modo in argomento per capire quali sono le iniziative velistiche nella bellissima località di Porto Cesario. Oltre 200 imbarcazioni si sono sfidate all'interno del bacino di Porto Cesario. Le eccellenze della classe Optimist si sono sfidate a partire da Verdi 20 maggio nell'ambito di una tra le regate più importanti del panorama italiano. Un evento organizzato dal circolo nautico L'Approdo che per i suoi 50 anni ha potuto regalare a tutto il Salento e agli amanti della vela questa splendida opportunità dove nell'interno dell'abbacino di Porto Cesario si sono sfidate a colpi di virate e strambate alcune delle imbarcazioni più importanti d'Italia. Abbiamo portato il circuito più importante dopo quello kinder per queste imbarcazioni. Più o circa 200 imbarcazioni partecipanti direi che è un grande successo per Porto Cesario un grande successo per la vela un grande successo per la Puglia. Siamo felici che i ragazzi possano fare questo sport e soprattutto lo possano fare in posti meravigliosi come questo perché lo sport della vela lo ricordiamo è lo sport più ecologico più ambientale che esiste. Un grande evento per il nostro circo è l'occasione dei 50 anni di attività un evento che sognavo di portare qui a Porto Cesario da diversi anni finalmente quest'anno ci siamo riusciti. E adesso una nota dolente nel nostro telegiornale dedicato al Salento perché proprio in quest'area geografica della Puglia ripreso a bruciare tutto quello che riguarda tutto quello che riguarda il verde gli alberi e quindi la questione diventa già d'attualità forse con anticipo rispetto alle stati precedenti. Diversi ettari in fumo in una sola giornata ad Ugento pensate una delle cause è legata all'espianto delle piante infette e l'eradicazione è bloccata dalla burocrazia di questo ci parla nel prossimo servizio Paolo Franza Un vero e proprio inferno di fuoco quello che si sta sviluppando in quest'area ad Ugento dove sono circa una decina di incendi che hanno mandato in fumo diversi ettari nelle ultime 48 ore un colpo al cuore al patrimonio naturalistico colpito dall'axilella fastidioso ma perché tutto questo? I motivi sono molteplici uno su tutti l'articolo 6 il bando della regione Puglia che ha garantito l'espianto solo a 900 domande su 9.000 presentate gli altri dunque sono in attesa con l'obbligo di non intervenire gli agricoltori paradossalmente se vanno ad eradicare gli alberi senza il consenso da parte della regione vengono esclusi si autoescludono dalla gradatoria molti terreni sono incolti perché un po' la naffa ormai la naffa d'agricola è alle stelle 1,30 euro circa ormai è la soglia dei costi al litro intanto il salento brucia già a maggio i vigili del fuoco non riescono ad intervenire tempestivamente troppi incendi che si sviluppano in contemporanea in punti diversi l'Axilella ha messo in ginocchio tantissimi operatori agricoli sto cercando in tutti i modi di mantenere ovviamente tirando tutti quanti i soldi di tasca fuori di tasca mia ma tutte le persone che invece operavano soltanto in questo settore che hanno avuto dei problemi seri che si sono visti dall'oggi al domani per strada se non vengono aiutati come fanno è evidente che a quel punto sono costretti a trascurare le situazioni del tipo quella che vedi laggiù per cui è sufficiente una scintilla perché poi vada tutto quanto in fumo vi raccontiamo adesso una storia molto interessante che giunge dal Salento la storia è quella di Pantaleo Greco che dopo la laurea in Agraria ha voluto portare avanti la memoria dell'azienda di famiglia anche dopo la scomparsa del padre per non perdere quella vocazione cultura e tradizione olearia plurisecolare Barbara Magnani è una passione più che un lavoro ma che insomma mi ripaga di tanti sforzi e di tanti sacrifici che faccio giornalmente mantenere la tradizione unendo però la modernità grazie anche alla laurea in Agraria che permette di utilizzare metodi innovativi utili per superare le difficoltà quotidiane è l'impegno di Pantaleo Greco che dopo la scomparsa del padre Oronzo lo scorso settembre ha voluto portare avanti l'azienda nata col bisnonno che col tempo si è ampliata e oltre la tradizione o le aree plurisecolare adesso conta anche su un allevamento di circa 120 bovini la produzione vitivinicola è una moderna struttura ricettiva sono sicuro di fare qualcosa che a mio padre in primis ma anche a chi l'ho preceduto farebbe piacere da tempo l'azienda è vocata verso una multifunzionalità spinta con il presentarsi all'Axtrella questa necessità di riconvertire si è fatta sempre più pressante mantenere le tradizioni però guardando anche poi al futuro un po' anche questo la chiave per cercare di superare poi anche i vari momenti difficili dalla Axelella ai rincari non è un caso che gli agricoltori sono innovatori per tradizione e il nostro mestiere ci costringe anzi ci spinge a essere sempre innovativi e proprio per questo diciamo forse siamo anche più abituati a dover confrontarci con ciò che accade ad iniziare dalle intemperie adesso torniamo a Brindisi per parlare della crisi del comparto dell'edilizia soprattutto in relazione alla sicurezza sul lavoro al centro di un incontro che è stato organizzato da Lancia e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili la crescita del comparto edile attraverso la valorizzazione delle imprese virtuose che pongono al centro del loro operato il rispetto delle regole e la qualità del lavoro e questa è la convinzione del Lancia che a Brindisi insieme all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha organizzato un incontro per illustrare i contenuti del rinnovo del contratto collettivo nazionale in una fase storica particolarmente complessa legata principalmente all'aumento dei costi delle materie prime stiamo cercando di ottenere anche tutto quello che per esempio sul caro materiale tutto quello che sulla revisione dei preziari eccetera stiamo cercando di lavorare insieme al governo e anche insieme al sindacato per vedere di ottenere qualcosa per poter andare avanti perché le nostre imprese in questo momento stanno veramente soffrendo noi abbiamo qualche problema con i comuni che non ci passano le informazioni stiamo interloquendo direttamente con il prefetto e con gli ordini di polizia perché il passaggio dovuto delle informazioni ci aiuta a presidiare il territorio ed evitare gli infortuni perché la nostra rilevazione gli infortuni avvengono presso cantieri che sfumano all'applicazione del contratto nazionale sicuramente l'edilizia è un'attività ad alta intensità di mano d'opera dove c'è mano d'opera ci sono i consulenti del lavoro nell'edilizia ovviamente si concretizza nella massima espressione il concetto di sicurezza garanzia retributiva e garanzia del rispetto delle regole e su questo i consulenti del lavoro insieme ad Ance sicuramente cercano soluzioni che si esprimono poi all'interno del contratto collettivo c'è un problema di costo del lavoro in Italia ma non è il costo del lavoro a impedire di fare buona attività di impresa di fare buona attività di consulenza Torniamo a Lecce alle porte di San Cataldo è crollata letteralmente una villetta sul posto è intervenuta la polizia ma ovviamente anche i vigili del fuoco per conoscere i motivi dell'improvviso crollo poi c'è stato anche un incendio Matteo Bottazzo Una villetta è stata completamente distrutta implosa su se stessa un vero e proprio cumulo di macerie questa è la situazione davanti alla quale nel corso del pomeriggio si sono trovati i vigili del fuoco e gli agenti di polizia del reparto prevenzione crimica arrivati sul posto in giro di pochi minuti dalle richieste di intervento l'episodio si è verificato attorno alle ore 18 nei pressi dell'ingresso della marina di San Cataldo sulla strada che collega a Fregole i vigili del fuoco hanno perlostrato tutta l'area ma non hanno trovato traccia di persone all'interno mentre la polizia ha avviato ulteriori accertamenti tramite la scientifica per risalire ai motivi del cedimento strutturale la villetta circondata da un giardino chiusa a un muro perimetrale e risulta di proprietà di una donna originale del Brasile di 49 anni e come detto era del tutto disabitata da tempo e non veniva impiegata per alcune attività gli accertamenti sulle cause del crollo dunque sono ancora in corso a Francavilla si è parlato di legalità insieme con gli studenti del primo comprensivo a confronto con la procura della repubblica e l'arma dei carabinieri Michele Iurlaro potrebbe ricordare tutti coloro che hanno lottato contro la mafia quei girasoli lasceranno dei semi e saranno semi di legalità raccontata attraverso le testimonianze i ricordi e attraverso la storia del sacrificio di uomini e donne dello Stato in una giornata carica di simboli la parte più divertente costruttiva ed emozionante è stata quella del confronto tra il capo della procura di Brindisi Antonio De Donno e il comandante dei carabinieri Vittorio Carrara con gli studenti delle classi quinte del primo comprensivo di Francavilla Fontana il futuro di questo paese è un futuro di ragazzini che si stanno formando e che sono più maturi della loro età lo hanno dimostrato oggi chiaramente hanno percepito esattamente i valori della legalità sanno perfettamente che non è solo un fatto razionale ma è un fatto anche emotivo lo hanno detto in tutti i modi e noi siamo entrati in sintonia con loro parlare con i bambini è divertente è stimolante dà anche un senso diverso a una giornata che non è più una giornata lavorativa è veramente una giornata di divertimento trasmettere qualcosa ai giovani specialmente in questo momento della loro crescita che è il momento fondamentale è veramente un piacere una soddisfazione quindi sì mi sono divertito un evento quello di scena al Teatro Italia di Francavilla carico quindi di ricordi di stimoli il mese di maggio il mio istituto lo dedica completamente al percorso legalità un percorso trasversale che diciamo si inquadra all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica Falcone Borsellino Aldo Moro storie di sacrificio storie di legalità raccontate a quei bambini che meravigliati si innamorarono un giorno di uno stato che non si è mai mai piegato alla mafia la legalità ci rende forti e coraggiosi per combattere l'amore della giustizia e del bene finisce così questa edizione del nostro TG di Cronaca ma l'informazione prosegue su Antenna Sud perché c'è il telegiornale sportivo tra pochissimo grazie per l'attenzione arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social di Cronaca di Cronaca di Cronaca Grazie a tutti.